ciao a tutti ragazzi oggi sono andata in edicola a comprare questo slime sunday cioè uno slime che assomiglia alla sabbia del mare ora spacchettiamo come vedete sono due colori differenti uno verde e uno rosa ora proviamo a schiacciarlo wow è come se se toccassi la sabbia del mare è una sensazione bellissima poi guardate come si sgretola adesso proviamo a rincompattarla e facciamo una pallina no no E' un pochino difficile rincompattarla perché come vedete si sgretola tutta e poi è leggerissima Adesso proviamo con quella verde Come vedete hanno fatto una forma bellissima ed è veramente molto liscio Poi quando andiamo a schiacciarlo è ancora più bello perché dà la sensazione di toccare la sabbia del mare Adesso facciamo la pallina anche questo Ora vediamo cosa c'è qui Ah ci sono tutti i colori disponibili di questo slime Mi raccomando ragazzi Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale mi raccomando un bel pollice in su qui Grazie a tutti Grazie a tutti